È un calciomercato in continuo fermento quello dell'US Avellino. Se per quanto riguarda le entrate la società sta riflettendo bene circa gli ultimi tasselli da mettere a disposizione di Michele Marcolini, per le uscite si sta cercando di dare una decisa accelerata. Nella giornata di ieri è stata formalizzata anche la cessione a titolo definitivo di Mattias Solerio al Vicenza. Tra oggi e domani invece si cercherà di completare il passaggio di Luca Lezzerini al Venezia per poi portare al termine, finalmente, l'acquisto di Ivan Lanni dall'Ascoli. Ad inizio settimana prossima poi dovrebbe essere la volta di Alessandro Buongiorno, difensore di proprietà del Torino, classe 1999, per il quale è stata vinta la concorrenza del Cosenza e che arriverà in prestito per la sua prima esperienza tra i professionisti. Si continuerà a lavorare poi per piazzare Idrissa Camarà, sempre più vicino alla Triestina, e per risolvere i contratti di Rino Iuliano e Laiusse di Allù. Fatte queste operazioni sarà la volta della tanto attesa mezzala, sempre in auge ai nomi di Roman Macek della Juventus ed Alessandro Mastalli della Juve Stabia. Nel frattempo però la dirigenza erpina dovrà difendersi dagli assalti di alcune società sui cosiddetti pezzi pregiati. Francesco Di Tacchio fa gola a molti club di Serie B, ma Tacone è stato chiaro, il centrocampista ex Pisa è il primo dei blindati in casa USA Vellino. Nelle ultime ore però sul possente calciatore di Trani è piombata la spalla che vorrebbe portarlo in Serie A. Un'offerta economicamente superiore al milione di euro potrebbe far vacillare le certezze di Enzo De Vito e Walter Tacone che però a quanto pare avrebbero già pronta l'alternativa. Anche su Lorenzo Laverone, che tra l'altro ha lo stesso procuratore di Di Tacchio, Mario Giuffredi, c'è l'interessamento di ben due club, Lecce ed Ascoli, ma il tornante ex Vicenza e Salernitana è molto apprezzato da mister Marcolini. Infine c'è da sciogliere il nodo legato al capitano Angelo D'Angelo. Il contratto ancora non gli è stato rinnovato e le offerte non mancano neanche al mastino di Ascea, con Cosenza e Casertana pronte ad offrirgli un contratto triennale. Grazie a tutti.